Ciao a tutti e benvenuti su Mondo Promozioni. In questo video vi mostrerò le 5 migliori racchette da Paddle Tennis. Inoltre vi lascio il link di tutte queste fantastiche racchette da Paddle Tennis qui sotto nella descrizione del video. Iniziamo! Numero 5. Al quinto posto troviamo la racchetta Mass Paddle. La racchetta Mass Paddle, adatta per giocatori di qualsiasi livello, fornisce un grande comfort nell'impugnatura. Il rivestimento al 100% in fibra di carbonio e la forma a goccia con bilanciamento medio, garantisce un ottimo colpo di potenza che permette di chiudere il punto. Ideale anche per giocatori di destra che prediligono il controllo e la precisione. Design elegante e riconoscibile, con inserti in arancione e sfondo in Ardesia. Custodia inclusa. Il prezzo è di 52 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo la racchetta Paddle Nuestro. Racchetta da Paddle con fibra di carbonio nel telaio, fibra di vetro nelle parti piane e gomma EVA nel nucleo. Questi materiali forniscono grande resistenza, durata e un controllo ottimo. La gomma EVA Soft, garantisce una buona uscita della palla e comodità durante il colpo. La sua forma a goccia gli conferisce un basso balance, e un peso ridotto per colpi di precisione, migliori sensazioni e una giocabilità elevata. Questa racchetta da Paddle per uomini, donne o bambini, vi permetterà di ottenere il massimo della precisione dal vostro stile di gioco. Questa racchetta da Paddle è fatta di materiali leggeri e resistenti per un eccellente controllo di gioco. Con uno spessore di 38 mm e un peso tra 360 e 370 grammi, questa racchetta da Paddle offre la massima comodità e leggerezza in ogni colpo. Il suo design sportivo, e la sua forma a goccia, la rendono perfetta per i giocatori di livello intermedio e avanzato, che con uno stile professionale, giocano senza perdere il controllo sul campo. Viene incluso anche un overgrip, che potete utilizzare per il manico della vostra racchetta da Paddle, e ottenere il massimo rendimento in tutti i tipi di partite. L'impunatura favorisce l'assorbimento del sudore dandovi una presa ottimale in ogni colpo. Il prezzo è di 55 euro. Prima di passare al prossimo prodotto, iscriviti al canale per non perdere le migliori offerte. Numero 3 Al terzo posto troviamo la racchetta Nox. La racchetta Nox è stata fabbricata con materiali leggeri e resistenti per un'eccellente gestione del gioco di controllo. Questi materiali forniscono grande forza e durata, nonché un controllo incredibile. La gomma EVA fornisce un recupero veloce e una grande uscita di palla. Con uno spessore di 38 mm e un peso tra 360-370 grammi, questa racchetta da Paddle offre la massima manovrabilità e comfort in ogni colpo. Questa racchetta da Paddle per uomini, donne o bambini vi permetterà di ottenere il massimo della precisione. La forma di lacrima, posiziona lo sweet spot al centro della racchetta. Con un equilibrio medio e una finitura lucida, ti aiuta a colpire meglio la palla. Il suo design sportivo e la forma arrotondata, sono progettati per i giocatori di alto livello che giocano senza perdere il controllo sul campo. Il prezzo è di 77 euro. Numero 2 Al secondo posto troviamo la racchetta Mistica. La racchetta da Paddle Mistica, è progettata per i giocatori avanzati e professionisti di Paddle. Questa racchetta è realizzata con materiali di alta qualità per offrire prestazioni superiori in campo. La racchetta è leggera, maneggevole e offre una buona combinazione di potenza e controllo. La forma e il design della racchetta sono studiati per garantire una maggiore manovrabilità e un migliore controllo della palla. La racchetta di solito presenta un bilanciamento neutro o leggermente in testa per fornire potenza nelle tue mani. La superficie della racchetta può essere composta da un materiale avanzato, che offre un'ottima trazione sulla palla, aiutando a generare spin e controllo durante il gioco. Inoltre, la racchetta Mistica è dotata di tecnologie e caratteristiche aggiuntive come assorbimento delle vibrazioni, sistema antitorsione o nucleo rinforzato per garantire stabilità e durata nel tempo. Il prezzo è di 77 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo la racchetta Rites. Il nucleo in gomma EVA a bassa densità e la struttura a forma di lacrima, creano un perfetto equilibrio tra potenza e colpi di precisione. Ciò si traduce in un'esperienza di gioco più dinamica adatta a tutti i giocatori, dai principianti agli intermedi. Il telaio della racchetta è composto da 5 strati in 100% di fibra di carbonio. Il traino in carbonio contiene più di 1000 fili ad alta resistenza che conferiscono al telaio della racchetta, una struttura forte e robusta di alta qualità. La superficie della racchetta Rites è realizzata con materiali in carbonio e fibra di vetro di alta qualità, creando una racchetta flessibile e resistente che pesa solo 360 grammi. La racchetta Rites ha una zona d'impatto estesa per una maggiore stabilità e reattività. È facile da usare in tutti gli scenari di gioco. L'impulatura ad assorbimento di energia, riduce le vibrazioni all'impatto con la pallina da paddle e dallevia lo stress sul polso. Il prezzo è di 99 euro. Vi ricordo che trovate tutti i link qui sotto nella descrizione del video. Grazie per la visione. Grazie.